viola come il mare ultima puntata francesco potrebbe confessare il suo amore a vitale ma cosa succede nell'ultima puntata di viola come il mare con janni amane francesca chillemi le anticipazioni della fiction di canale 5 rivelano che ci sarà spazio per dei nuovi e clamorosi colpi di scena che vedranno come protagonisti francesco de mir e viola vitale in particolar modo la giornalista si ritroverà in un serio pericolo di vita e a quel punto sarà proprio l'ispettore capo a prendere in mano le redini della situazione in vista di questo attesissimo finale della prima stagione non si ecclude che francesco possa finalmente confessare i suoi sentimenti verso la giornalista nel dettaglio le anticipazioni sull'ultima puntata di viola come il mare in onda il 4 novembre in prima serata su canale 5 rivelano che francesco si rivolgerà viola per un aiuto probabilmente legato alla sua indagine sul traffico di esseri umani che sta portando avanti da diverso tempo la reazione della giornalista però non sarà delle migliori vitale seppur a malincuore si ritroverà dover dire no all'ispettore capo de mir non la prenderà affatto bene e accuserà la donna di essere solo un egoista come tutti gli altri ma i colpi di scena non finiscono di certo qui perché di lì a poco ci sarà una notizia che getterà nello sconforto francesco e tutti i conoscenti della giornalista le anticipazioni della sesta e ultima puntata di viola come il mare rivelano che la donna scomparirà nel nulla viola farà perdere le sue tracce e ovviamente tale situazione spingerà francesco ad indagare in prima persona per cercare di capire cosa sia successo nel gran finale di questa stagione della fiction con jean jaman e francesca chilemi l'ispettore capo dovrà così far luce sulla sparizione della giornalista che a quanto pare sembra essere finita nelle mani di loschi individui ma come si evolverà la situazione francesco riuscirà a salvare viola molto probabilmente sì dato che la fiction è stata già confermata per una seconda stagione che avrà ancora come protagonista jean jaman e l'ex miss italia sempre che loro confermino la loro partecipazione e che non cambi qualche cosa che nell'aria si sente e così in vista dell'ultima puntata in questa prima serie non si esclude che francesco possa non solo salvare la vita alla giornalista ma anche uscire allo scoperto con i propri sentimenti demir infatti potrebbe finalmente confessare il suo amore a viola vitale dopo che in queste settimane i due hanno cercato in tutti i modi di evitarsi eppure i loro occhi li hanno traditi dato che entrambi fin dal primo momento sono apparsi cotti l'uno dell'altro trionferà l'amore lo scopriremo venerdì 4 novembre su canale 5 ma tu continua a seguirci su questo canale che ti rispettere che ti faremo sempre trovare nuove news